Ciao classe, oggi parliamo del ritratto in epoca augustea e quindi stiamo parlando non tanto di tutti i ritratti quanto del ritratto di Ottaviano Augusto che segue una serie di tipologie e il tutto rientra nel discorso sulla propaganda che abbiamo già fatto. In quest'epoca quindi quando diciamo Ottaviano è ancora Ottaviano e poi quando diventa Augusto i ritratti che ci sono giunti sono moltissimi e dovevano essere molti di più naturalmente posti a Roma e in tutte le zone dell'impero. Sono tutte quante però da far risalire a pochi prototipi che possono essere tranquillamente copiati e diffusi appunto in tutto l'impero. Io vorrei andare un po' di sintesi e presentarvi tre tipologie. Quello che viene chiamato il tipo Ottaviano detto anche tipo di Azio o tipo Alcudia e in questo caso è il primo esempio che vi ho messo. L'autore è un autore greco sconosciuto. Questo ritratto di cui originale è proprio soltanto la testa è oggi ai musei capitolini di Roma datato tra il 35 e il 30 e quindi fa parte proprio di questo periodo in cui Ottaviano è ancora come dire un generale, un generale entusiasta, un generale vincitore che poi appunto nel 31 dopo la battaglia di Azio diventa effettivamente vincitore. Questi ritratti cominciano intorno agli anni 40 e possiamo definirli anche del tipo patetico. Questo l'abbiamo già visto quando abbiamo parlato in generale dei ritratti. Qui il nostro Ottaviano ha circa 20 anni e perché dico tipo patetico? perché è incline alla rappresentazione del pazzo, del sentimento e viene modulato sui ritratti di Alessandro Magno o dei Diadocchi. Quindi un ritratto di origine ellenistica in cui sicuramente ci sono degli elementi realistici ma nello stesso tempo c'è appunto lo scivolamento verso il patetico e anche l'idealizzazione. Allora da qui derivano tutta una serie di ritratti che sono abbastanza fedeli a questa tipologia. Vediamo le caratteristiche. Allora innanzitutto i capelli. Allora vedete abbiamo questi capelli mossi abbastanza scompigliati con delle ciocche che è come se venissero ammucchiate e poi ecco vedete qui abbiamo questa specie di tenaglia qui anche è proprio tipico della della rappresentazione dei capelli che avevamo visto appunto con Alessandro in età ellenistica e che poi viene recuperata. La testa è sollevata e lo sguardo è rivolto verso destra e gli occhi sono abbastanza sottili con queste sopracciglia che convergono verso la radice del naso. Se lo vedessimo di profilo vediamo che è un naso sottile ma abbastanza lungo abbastanza importante e dicevo questi occhi con queste sopracciglia che cadono subito sopra l'occhio quasi senza mostrare la palpebra e la fronte queste due queste due rughe nella fronte danno proprio l'impressione della tensione della concentrazione quindi è proprio il generale di parte che vuole mostrare la sua calma ma in realtà appunto è estremamente estremamente teso. Ecco queste ecco e veniamo al secondo tipo è il Augusto di Prima Porta. Siamo intorno agli anni venti del primo secolo avanti Cristo. Qui adesso cominciamo sulla statua in generale e poi ci fermiamo sul sul volto anche perché è importante dare dare un quadro. Ecco innanzitutto diciamo perché Augusto di Prima Porta perché è stato ritrovato a metà dell'ottocento nella villa di Prima Porta che è la villa di Livia Drusilla la moglie di di Augusto. Viene anche chiamato Augusto Loricato. Questo è un ritratto che fa parte appunto della ritrattistica ufficiale pertanto lo vedremo meglio nel viso c'è un mescolanza di idealizzato e di realistico. Ecco è il principe Loricato quindi vedete ha una questa corazza che però rivela l'anatomia e il braccio è teso nel gesto della della adlocuzio che è il parlare di fronte di fronte all'esercito come un imperator quindi è il gesto solenne del comando e oltre alla alla corazza alla lorica abbiamo anche vedete questo paludamentum che fa parte proprio dell'abbigliamento di tipo militare. Il modello è un modello classico per cui per Augusto da questo momento in poi cominciamo a parlare di classicismo e lo vedremo anche nell'arapacis quindi di arte intesa come instrumentum regni quindi come modo per gestire anche il potere e come dire il fatto di creare un aroma ricordate l'aroma di marmo opulenta ricca è ovvio che fa bene tra virgolette anche all'immagine del nuovo gestore diciamo così del potere. Vedremo poi quali altri rinnovamenti ci sono in ambito augusteo però qui visto che stiamo parlando dei ritratti ci fermiamo qui. Ecco dicevo quindi classicismo infatti questo è un modello classico c'è il discorso della ponderazio c'è il discorso del chiasmo quindi vedete che c'è proprio un riferimento molto preciso a Policleto quindi al al massimo diciamo alla massima espressione dell'arte dell'arte greca è però nello stesso tempo un'immagine fortemente simbolica quindi il vestito non viene rappresentato nudo come appunto gli eroi greci che erano appunto atleti divinità eroi ma viene presentato appunto vi dicevo nel gesto proprio del dell'imperatore però ai piedi nudi quindi piedi nudi come gli eroi e le divinità e poi vedete c'è Eros che è a cavallo di un delfino e questa è un'allusione a Venere a Venere che è la la dea protettrice e genitrice della famiglia Giulia lo vedremo vedremo anche poi nella nella rapacis questi diciamo questi riferimenti e ecco vi dice cavalca un delfino in riferimento alle origini divino e l'abbiamo detto poi non era come la vediamo noi oggi ma vedete era colorata come tutte le statue anche quelle classiche ricordate e l'uso della porpora naturalmente è importante e poi abbiamo anche la corazza su questo non mi fermo ve lo guardate voi e guardate quali sono le scene rappresentate sulla corazza adesso vediamo nel nel dettaglio il volto che è quello che ci serve per il percorso che stiamo facendo delle diverse tipologie ecco qui ho cercato di mostrarvi in modo più particolareggiato così vedete bene i riferimenti alla alla lorica ma ribadisco su questo non mi fermo e vediamo invece il volto allora il volto è molto sereno anche abbiamo detto adesso vediamo con dei tratti realistici però tutto questo risponde al desiderio di presentare se stesso con il ruolo che si era scelto cioè il ruolo del pacificatore il ruolo di colui che sta preparando la pace che si sta preparando a rinnovare il diciamo Roma e a inaugurare una nuova età di Roma età dell'oro scusate il volto quindi vi dicevo viene modificato rispetto alla realtà senza però che vengano alterate i tratti tipici di Augusto che abbiamo visto sono gli occhi piccoli le sopracciglia molto 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 vicine agli occhi il naso lungo e non aquilino però come dire stretto sottile e però importante le labbra piccole il mento un po' a punta e soprattutto tratto distintivo le orecchie leggermente o un po' di più a sventola ecco a questo l'avamo visto un pochino le orecchie anche nell'altro ritratto sono proprio il tratto tipico di Augusto però tutto questo come dire è talmente reso in modo appunto classico equilibrato che Augusto che qui ha 36 anni sembra quasi non avere non dimostrare l'età sembra quasi non avere età quindi sembra un uomo esprime l'idea di un uomo equilibrato al quale si poteva concedere fiducia perché avrebbe retto con mano ferma ma nello stesso tempo in modo giusto il potere allora vediamo un pochino più nel dettaglio del diciamo dei ritratti precedenti quindi del modello di Ottaviano restano i capelli Atenaglia però i capelli sono decisamente meno scomposti lo schema più posato cioè queste ciocche sono più raggruppate per quanto riguarda i tratti tipici l'abbiamo detto ecco il contorno del volto però è regolare ecco guardate un altro tratto sono gli zigomi segnati gli zigomi alti qui gli occhi come se si fossero un po un po ingranditi e danno l'idea di essere molto molto profondi bene questo è quindi il la seconda tipologia adesso vediamo la terza ecco il terzo tipo di cui vi parlavo derivato dalla rapacis dove Augusto viene presentato come pontefice massimo carica che ha assunto a partire dal 12 avanti cristo ecco da quel modello della rapacis derivano tutta una serie di statue che mostrano Augusto capite velato si dice cioè con il capo velato come tipico dei pontefici allora adesso guardiamo proprio nello specifico il ritratto perché è una statua invece intera e li vedremo altri altri particolari allora qui diciamo che è rappresentato Augusto in età abbastanza anziana si chiama così si chiama statua di via labicana perché è stato ritrovato alle pendici del colle opio comunque in questa in questa via attualmente è al museo nazionale di Roma e è una copia però di età tiberiana i tratti somatici vedete sono sempre gli stessi quindi non sto a ripeterli quindi è molto riconoscibile in particolare guardate appunto la forma delle orecchie ma non solo e la capigliatura col solito discorso della tenaglia vedete qui però ecco i tratti somatici sono piuttosto emaciati ecco poi negli ultimi anni di vita sono proprio evidenti questi tratti segnati dalla malattia dalla stanchezza quindi è un Augusto insomma non più molto tra virgolette in forma ecco adesso un attimo vi mostro la statua intera ecco qui potete vedere la statua intera manca un pezzettino sotto allora adesso vediamo di dimostrarvelo ecco qui questo particolare è abbastanza importante sono i calzature proprio portate soltanto dagli aristocratici e come vedete non abbiamo non abbiamo parte delle braccia e le mani e quindi non possiamo vedere che cosa tenesse molto probabilmente però aveva nella mano destra una patera che serviva proprio è un recipiente con una forma un po' come di una specie di piatto di ciotola diciamo dove appunto veniva posto il vino o anche il latte che veniva usato durante durante le libagioni ecco altri probabilmente aveva anche un rotolo nell'altra mano ma insomma queste sono sono un po' ipotesi ecco un altro elemento importante vedete la toga fortemente fortemente delineata con questo grande chiaroscuro e sta proprio compiendo questo atto religioso di devozione siamo sempre legati alla modalità di tipo classicistico ecco da questo modello come vi dicevo ne derivano molti altri e poi dopo la morte però non li guardiamo vedremo molte statue con augusto divinizzato ecco Grazie.